numero 5 testiera rivestita in tessuto e similpelle per letto matrimoniale o singolo con finiture di alta qualità e di prima classe offre uno spessore di 5 centimetri che garantisce grande resistenza e durata a differenza della concorrenza disponibile in tre diverse misure e in tanti brillanti colori facile da pulire il rivestimento ha un trattamento anti acaro e antimacchia questa testiera imbottita è pronta per essere appesa trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 4 testiera in similpelle disponibile in diverse misure e colori viene fornita con gambe di legno un prodotto conforme a tutte le normative vigenti design moderno se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 3 testiera per letto imbottita in capitone e dallo spessore di 8 centimetri la testiera è disponibile in diversi colori e misure realizzata in tessuto e similpelle si adatta a qualsiasi stanza design moderno puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 testiera imbottita con tela di velluto di alta qualità il tessuto è antimacchia molto resistente grazie alla doppia cucitura la testiera è imbottita con spugna di qualità la struttura interna è realizzata in compensato di legno le gambe sono in legno di faggio massiccio con forma conica che danno uno stile nordico alla camera da letto la struttura ha un peso di 14 kg il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 1 testata letto matrimoniale imbottita da attaccare al muro la confezione comprende un kit di montaggio il tessuto della testata è morbido al tatto idrorepellente e quindi resistente a macchie ed umidità la testata è composta da fibre di poliestere che la rendono estremamente resistente alle sollecitazioni design originale e moderno disponibili in diverse misure e colori trovi il link di questo articolo in descrizione